In questo video ci saranno i retroscena degli accordi che avevano conducati sia Marquez che Martin e vedremo chi ha furbeggiato. Chi ha detto a Marquez di fare così, di dire quella cosa di Pramac? Come è andata poi la storia di Martin in aprilia, precisa, precisa, e chi gli ha detto di fare così a Martin, come e dove l'ha presa Vignales, come ha preso Campinoti la storia di Marquez che gli ha detto di no, e quello che può succedere con Pramac se vai in Yamaha, cosa dice lo sponsor, eccetera. Sembra gossip, ma non è, perché spiega un sacco di cose che sono successe come e perché e un sacco di cose che possono succedere come e perché, ok? Ok? Volete vedere? E vediamo. Ciao da Mr. Helmet, questo video vedete tutto viola perché è molto Pramac, è molto Pramac. Mi devo correggere, vi avevo detto nel video precedente, quello della storia degli sponsor che vanno in conflitto del discorso di Marquez, vi avevo dato un accenno del retroscena di Martina perché si era arrabbiato e tutto il resto. Cosa avevo detto nel video precedente? Che Martina aveva, gli avevano chiesto di avere pazienza, che c'era per lui posto comunque in modo di trovare una sistemazione e lui aveva detto di no, si era incazzato e tutto il resto. Questa cosa è vera in parte, in altre parti c'è una cosa da correggere, ok? Vi dico come è successo. Martín e Marquez avevano lo stesso contratto. A Marquez avevano detto, se vinci il mondiale vai in rosso, altrimenti vai in Pramac. A Martina avevano detto, il posto ufficiale è tuo ad una condizione. Se Marquez vince il mondiale, dobbiamo metterlo in rosso e tu rimani con una moto ufficiale in Pramac. Ti sta bene? Sì, sì, sì. Marquez a te sta bene? Sì, sì, sì. Guardate che dopo dovete rispettare la clausa. Qualcuno però ha deciso di accorciare e prima della fine del campionato, è evidente, della segnazione del mondiale, ha fatto il furbo e parliamo ovviamente di Marquez. Marquez ha detto, no io in Pramac non ci vado. E quindi chiaramente contravvenendo a quel patto che avevano fatto di mettersi d'accordo sull'accettare la moto Pramac in caso di vittoria del mondiale dell'altro. Questa cosa è ovviamente un'operazione sorprendente da parte di Marquez. È corretta o non è corretta? Nominalmente non è corretta perché invece Martin questa cosa la stava accettando, però è comunque comprensibile. Quello che è strano e che pare, vi siano dei rumors molto fondati, che dicano che qualcuno abbia consigliato a Marquez di fare così. C'è chi dice che Domenicali abbia detto a Marquez, Mark, di che in Pramac non ci vuoi andare perché tanto poi la cosa la sistemiamo noi. Qualcun altro dice che invece sia stato Gigi a dire così, che magari, insomma, qualcuno dice che a spingere Marquez sia stato Domenicali, qualcuno dice che sia stato da linea, non cambia molto, si tratta sempre di Ducati. Ovviamente queste due figure manageriali avranno chiesto ancora più in alto di loro, Audi e Sponsor, se la cosa gli stava bene. Oppure proprio da questa direzione sono arrivati gli input. Resta il fatto che Marquez di punto in bianco ha deciso che Pramac non gli andava più bene. Chi ha ragione in tutto questo? Marquez... Bartini ha ragione, poveretto, perché ovviamente lui si trova fregato. Ducati ha ragione, perché le moto sono sue e ci mette sopra chi vuole, quando vuole, come vuole. E Marquez ha ragione, perché lui è andato in Gresini da morto, nel senso che nessuno ci credeva più, per vedere se lui stesso, perché lui stesso non ci credeva, se era vivo e si è scoperto non solo vivo, ma anche di più. E quindi ha scelto di puntare più in alto di quello a cui avrebbe mai potuto pensare. Chi ha fatto dello sport e dell'agonismo, o ha amato una ragazza anche, sa bene, che a certe cose non si può comandare, e quindi tutto è giustificato. Detto questo, quello che è certo è che anche con accordi, clausole, fra gentiluomini di cui sono sicuro stiamo parlando, non ti puoi fidare di nessuno. L'unica... Volevo dire, prendi fregature ovunque tu vada. Le uniche, diciamo così, l'unico di cui ti puoi fidare è NordVPN, ve lo dico, ci metto la mia sponsorizzazione, che ti permette di geolocalizzarti in 111 paesi e scoprire il mondo, risparmiare, vedere i contenuti che nel tuo paese non sono visibili, ed essere protetto da truffe e malware, perché viene impedito il download. Fra l'altro con le opzioni premium sei anche garantito dal punto di vista assicurativo, phishing e tutte queste truffe e frodi finanziarie, ok? Eccolo qui il codice NordVPN, dedicato a Mr. Helmet, e vi ringrazio perché in tanti state aderendo, ok? NordVPN.com slash Mr. Helmet, usate questo codice e avrete due anni più quattro mesi extra di NordVPN, con uno sconto esclusivo, più fino a 50 euro di carte regalo, GoGift spendibili in un sacco di store, quindi Airbnb, vola gratis, Amazon, Spotify, e 30 giorni per decidere che mi siete sbagliati, ok? Detto questo, è il momento di capire cos'è successo. Quando a Martin hanno detto, abbiamo preso, sai una cosa, Jorge? Sì, dimmi, abbiamo preso Marquez. Che vuol dire abbiamo preso Marquez? Voi alla fine dell'anno dovevamo fare, chi vinceva andava lì, chi non vinceva andava in Prama. Che vuol dire abbiamo preso? Eh no, che abbiamo preso. E quindi questa parte dello scazzo è assolutamente vera, cioè è assolutamente confermata rispetto a quello che avevo detto l'altra volta. Martin si è completamente imbizzarrito e con il suo manager Alberto Valera accompagnato, cioè si è incazzato, si è consultato un po', gliel'ha detto al suo amico Espargarò e il suo amico Espargarò gli ha detto ma che stai a fare lì? Dove sei? Nel motorhome, vieni qua che siamo io e Massimo Rivola, tipo vieni che ci facciamo il contratto subito. Ma che davvero no? Ma vieni qua che adesso vedrai che si sistemiamo. Tipo di notte sono andati. Questa di l'operazione Martin Aprilia è veramente l'unica cosa fatta in poche ore della MotoGP degli ultimi periodi forse. E quindi Martin veramente ha fatto l'accordo con Aprilia. Preciso, preciso, tipo le tre di notte. Quindi, accordo soddisfacente, prende più di quanto prendesse Espargarò e quindi per la proprietà consecutiva più di quanto prende lo stesso Vignales, circa 3 milioni in questo caso, con premi robustissimi in caso di piazzamenti, vittorie, vittoria del mondiale, delle robe fenomenali ed esagerate. Come l'ha presa Vignales e dove l'ha presa è legato al fatto di quando l'ha appresa. Cioè, tipo che la mattina si è svegliato, tipo una roba così, o il pomeriggio, non so, mi ricordo quando è, e ha visto e l'ha saputo tipo dai giornali. Cioè, nessuno gliel'ha detto a lui, guarda, prendiamo Martin, guarda, abbiamo preso Martin, guarda, prendiamo Martin. Cioè, quando l'ha saputo era già successo. E quindi, quello si è incazzato abbastanza. Perché ha detto, vabbè, ma non mi avete detto niente, va bene tutto, però qua, là, su e giù, e la famiglia, e cosa, e lì. E quindi, insomma, è chiaro che Rivola gli ha detto, guarda che niente di personale, ma non è che non te l'ho detto per cattiveria, non te l'ho detto perché era di notte e non ti volevo svegliare. Che detta così fa un po' ridere, però veramente tu non è che puoi andare a bussare uno e dire che c'hai problemi, se prendo Martin, dai. E quindi, comunque, vabbè, sappiamo com'è fatto Vignales, sappiamo com'è invece fatto Massimo Rivola, che è una persona molto precisa, misurata, sicuramente non fa trucchetti e sgamuffi. E però, insomma, Vignales l'ha presa male e ovviamente è partito con le sue dichiarazioni. Da qui, quello che abbiamo visto, che mi fa anche un po' ridere, che è questo. Aprilia, Rivola, prova a ricucire con Vignale. Se verrai, sarai tu il capitano. Maverick, vabbè, Maverick, Vignales rimane, se sarai il nuovo capitano, o se Maverick, Vignales sarà il nuovo capitano. Insomma, se non ti incazzi, sei il capitano. E quello gli ha detto, no, ma me ne frega niente neanche di essere il capitano, anche perché avete già preso un altro a più soldi, e quindi è evidente che tutto questo spazio per me non c'è. O meglio, tutta questa considerazione per me non c'è. Detto questo, Vignales è uno di quelli che non è tanto per i soldi, ma per principio, è di uno di quelli che se ne sbatte ed eventualmente può andare in onda a dare il cambio, così come nel wrestling, Amir, a sbattere la faccia in terra. Anche lui, ovviamente, molto ben retribuito. Ok, però questo è un discorso di mercato, fra virgolette, dei poveri, e ne parleremo in un altro momento. Ok, ma rimane il discorso di Campinotti. Come ha preso Campinotti questa cosa? L'avete visto benissimo tutti. Cioè l'ha preso malissimo. E uno potrebbe pensare che abbia sbagliato a fare certi dichiarazioni. La verità però è che a questo signore che da tanti anni spende un sacco di soldi per avere la certezza di non vincere niente se non alcune gare e il titolo dei team, perché lo sa bene e se non lo sa non ci credo che non lo sa, ma se non lo sa glielo ridico, non può vincere il Mondiale, però insomma questo signore magari avrebbe voluto essere rispettato un po' di più. Quindi ha ragione Ducati a prendere Marquez perché tutti i motivi che sappiamo è inutile ci vorrebbe un video a parte. Ha ragione Martini che l'hanno preso in giro e bullato. Ha ragione Marquez perché non capito chi fa, chiude la carriera perché non ci deve provare se sente di meritare la moto eccetera. Ha ragione Espargarò che gli ha portato Martini così ha fatto anche la parte di quello che lo... Eh. Ha ragione Vignales che rigirano le palle e tutto il resto. Ha ragione Martini andare via ma c'ha ragione anche a Gampinotti abbiate pazienza. Lui era convinto in base alle clausole di cui abbiamo parlato all'inizio del video che avrebbe avuto o Marquez o Martini quindi non so insieme a un altro pilota del De Guerre probabilmente no? Questo anche per risarcire un po' la bastonata nei denti di doversi succhiare morbidelli con tutto il rispetto. Invece si trova che Martini li ha mandati tutti a Fangala perché se ne va in Aprilia e tanto colui non ci sarebbe voluto rimanere sarebbe insomma sarebbe anche stato interessante vedere cosa sarebbe successo se Martini perdendo il mondiale si sarebbe dovuto accontentare di un altro anno in Pramax probabilmente se ne sarebbe andato lo stesso. Non può avere Marquez e quindi a Fangala cioè deve mettere altre milionate per fare una brutta copia dei campionati che ha già fatto? No probabilmente ci sono voci che dicono che se ne andrà ok? Ah anzi ah ma se se ne va come fa con prima assicurazioni? Prima assicurazioni con cui ha da pochissimo firmato ok? Anche in virtù di tutte le polizze che io no scherzo con le macchine va bene pare pare che non vi sia nel contratto di sponsorizzazione di prima assicurazioni nei confronti di Pramax una obbligatorietà di rimanere con Ducati e quindi se ne potrebbe andare il problema il problema di Campinotti sarebbe quello che verrebbe diciamo che un problema di ossigeno cioè nel senso di ossigeno nel senso che pare che Yamaha sarebbe disposta a letteralmente sotterrare di soldi Campinotti e Pramax cioè gli darebbero col bobcat con la pala con la scavatrice perché ovviamente ci sono tante situazioni che vedono la necessità di Yamaha di avere un secondo team e ancora una volta qui aveva ragione Carmelo e Speleta che nell'intervista con Mr. Helmet quindi non l'intervista copiata da altri eccetera aveva detto sono sicuro che Yamaha avrà un secondo team in un modo o nell'altro già l'anno prossimo e quindi o lui sapeva tutto o forse è lui quello che ha detto a Marquez di non accettare lui Carmelo e Speleta intendo di andare con Pramax ma di battere i piedini per andare in rosso sapendo che questo avrebbe causato l'addio di Campinoti ragazzi è una situazione questa forse una delle prime volte delle poche volte in cui in una vicenda strana hanno ragione tutti Vignales Martini è una roba che non ho mai visto ovviamente qualcuno darà la colpa a me per qualcosa che ho detto in più o in meno che ne so succede sempre così ciao da Mr. Edmet